Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi ci occupiamo dell'analisi di un sonetto di Guido Guinizelli, lo vostro bel saluto e il gentil sguardo. In questo sonetto troveremo il superamento della poesia siciliana e della poesia guittoniana perché ora siamo entrati a pieno titolo nel dolce stil novo. Guido Guinizelli è considerato il precursore dello stil novismo, Dante stesso lo considerò il suo maestro per la lirica d'amore, quindi viene nominato e ricordato dal grande poeta che ha scritto quella canzone manifesto dello stil novismo al cor gentil Rempire sempre amore, famosissima che tratteremo anche noi più avanti, nato nel 1235 e morirà nel 1276. Bolognese studiò diritto, infatti esercitò anche la professione di giudice, ma per aver poi sostenuto la famiglia dei Lambertazzi, ne condivise poi la sorte quando vennero tutti espulsi dalla città e mandati in esilio. Ecco, Guinizelli insieme alla sua famiglia andranno a Monselice, qui vicino in provincia di Padova e lì troverà poi la morte, ecco famoso perché appunto considerato il caposcuola, il capostipite, il precursore dello stil novismo e di lui ci restano cinque canzoni e 15 sonetti, tra i quali appunto oggi vediamo lo vostro bel saluto e il gentil sguardo. In questo sonetto costituito, vedete, nelle due quartine da rime alternate AB AB e poi nelle due terzine invece da rime ripetute CDE CDE, in essa sono contenuti topoi tipici dello stil novo. Vi ricordo che nello stil novismo non inventa nulla di nuovo di sana pianta o ex novo ma semplicemente riadatta, rielabora dei temi e quindi dei materiali già visti, già trattati, ideati ancora dalla lirica provenzale, poi passano attraverso la poesia siciliana per giungere infine in Toscana. Quindi vedremo che qui la novità è soprattutto la spiritualizzazione, la perdita di ogni componente umana da parte della donna e sicuramente lo stile, uno stile nuovo ma soprattutto dolce, pieno cioè di parole dolci, cioè di suoni vocalici, privo di quei suoni aspri, di quello sperimentalismo grazie al quale si era contraddistinto Guittone d'Arezzo. Pensiamo anche alla Divina Commedia, esta selva selvaggia e aspre forte. Lì abbiamo un'influenza palese da parte di Guittone. In questo sonetto invece Guinizelli si sofferma proprio sugli effetti devastanti dell'amore e sull'anima del poeta, cioè non è più importante la relazione tra uomo e donna, cioè rispetto alla poesia lirica e a quella siciliana ora non conta più per il poeta ottenere il favore della donna, stare insieme a lei, congiungersi carnalmente. L'unica cosa che interessa è la pura e semplice lode, quindi passeremo dal tema anche della ricompensa, dal desiderio di stare insieme al tema della loda, del semplice elogio, del fatto cioè di essere felici solo per essere innamorati nel poterla vedere o semplicemente lodare, elogiare, quindi scrivere per lei fiumi e fiumi di parole, di poesie e quindi l'analisi poetica diventa introspezione, è un'analisi introspettiva, ciò che interessa adesso è soltanto la condizione psichica del poeta e attenti perché questo poi riguarderà sia Dante nella vita nova e poi anche nella Divina Commedia ma soprattutto Petrarca nel suo canzoniere, lì non è importante Laura ma tutto ciò che Laura ha suscitato nell'animo del poeta, cioè quello che conta ora è quel percorso di redenzione e di purificazione, la Divina Commedia è una peregrinazio e nel canzoniere abbiamo comunque un percorso di pentimento e di purificazione perché lui si pente il giovenile errore, qui invece Guinizelli sembra essere molto più vicino e aprirà anche la strada a Guido Cavalcanti perché Cavalcanti è l'unico degli stilnovisti che non condivide la fin amor, cioè il concetto che l'amore possa perfezionare l'essere umano, amore è soltanto un sentimento che devasta, è dolore e disperazione, anzi blocca le mie facoltà intellettive quindi io non posso comprendere l'amore ma di quello poi parleremo trattando la ballata di Cavalcanti, Donna me prega perché ho voglio dire, qui invece il poeta osserva la donna mentre passa e ne descrive gli effetti, lo vostro bel saluto e il gentil sguardo che fate quando vi incontro mancide, notiamo subito il verbo in posizione chiave, il vostro bel saluto e il gentil sguardo, quindi il saluto e lo sguardo gentile che fate quando io vi incontro mi uccide, quindi immediatamente lui rimane folgorato, è una folgorazione, infatti quell'uccide anticipa poi quel fulmine che troveremo invece nella prima terzina, quel trono, ancide è un provenzalismo quindi una parola che viene dal mondo lirico cortese che poi userà molto spesso anche Petrarca quindi lo ritroveremo ancora e qui subito abbiamo un tema topico del dolce stil novo ma anche della poesia lirica, il saluto e lo sguardo, l'amore arriva al cuore sempre attraverso gli occhi, quando il poeta la osserva e ne riceve il saluto rimane subito folgorato, viene ucciso, trafitto da un dardo micidiale, amor massale e già non ha riguardo se li face peccato o ver mercede, amor personificato, quindi qui amore diventa il cacciatore, colui che sempre in agguato, pronto a distruggere il poeta mi assale e non ha riguardo se li fa peccato quindi se mi fa peccato quindi se mi procura, se mi causa dolore o ver mercede oppure se mi fa piacere quindi lui non si interessa di come sto io, di come io mi possa sentire, di quali effetti possa produrre in me, possa innescare nella mia anima ma soltanto si preoccupa di colpirmi ed è la stessa immagine che poi ritroveremo anche in era il giorno che al sol si scoloraro di francesco petrarca, lui è lì tranquillo e nella chiesa di santa chiara d'avignone vede laura e ne rimane folgorato nonostante fosse il tempus lugendi che per mezzo lo cor me lanciò un dardo che d'oltre in parte lo taglia e divide, amore mi ha lanciato un dardo quindi ha scagliato una freccia contro di me e mi ha dice tagliato e diviso per mezzo lo cor oltre in parte quindi mi ha spezzato il cuore, lo ha frantumato, lo ha nichilito, il dardo lo ha trapassato da parte a parte la lacerazione evidenzia quel mancide della prima strofa, della prima quartina notiamo come il periodo non si fermi nella prima strofa ma prosegua poi nella seconda e spesso anche petrarca continuerà il suo discorso nella strofa successiva quindi di solito le prime due quartine racchiudono un messaggio e poi le due terzine un altro parlar non posso che in pene io ardo siccome quelli che sua morte vede io non posso parlare perché io ardo in pene brucio di dolore di sofferenza come quelli che vedono la propria morte qui abbiamo una similitudine tra il poeta e le persone che sono condannate a morte oppure che stanno per vedere la propria morte in faccia perché devono morire notiamo quel ardo, lui brucia di passione, viene veramente lacerato, trafitto ed ora bruciato quindi la sofferenza viene resa attraverso vari verbi tutti molto forti quindi sembra quasi anche una climax ascendente di dolore sempre più intenso e sempre più insopportabile per gli occhi passa come fa lo trono ecco il topos tipico della lirica cortese l'amore passa attraverso gli occhi e giunge al cuore e passa come fa il trono quindi come fa il fulmine che fer per la finestra della torre quindi che passa ed entra dentro attraverso la finestra della torre e ciò che dentro trova spezza e fende notiamo l'india di è un elemento tipico anche di Petrarca per rendere un concetto importante si usano due verbi quindi i verbi a coppie vedete anche prima lo taglia e divide lo spezza e fende un fulmine che entra attraverso una torre quindi il poeta si può anche arroccare si può difendere si può nascondere anche nei luoghi più inaccessibili più remoti una torre era facilmente difendibile è un luogo sopraelevato quindi lì si dovrebbe sentire al sicuro in realtà l'amore riesce a colpirlo anche se si trova a quell'altezza rimango come statua d'ottono rimango immobile come una statua di ottone quindi notate che qui riprende un concetto della prima strofa nella prima strofa è stato ucciso poi viene folgorato quindi rimane immobile ora si trova perfettamente bloccato come una statua di ottone è una statua però vuota perché rimane di lui solo l'involucro quindi non sarebbe neanche pesante da spostare ma rende molto bene l'idea una statua lì ferma immobile dove vita né spirito non ricorre dove non c'è più né vita né spirito quindi è stato completamente anichilito se non che la figura d'uomo rende e rende soltanto la figura umana cioè di me è rimasto quell'involucro la forma esteriore ma dentro di me non ho più nulla sono stato completamente svuotato qui abbiamo visto molti topoi tipici dell'amor cortese e soprattutto poi anche dello stile nuovo gli elementi di novità appunto sono lo stile lo stile dolce il saluto lo sguardo ma sono tutti come avete sentito materiali già visti sia nella poesia siciliana sia in quella provenzale solo nel primo verso nei primi due abbiamo più che altro gli effetti che lei produce quando il poeta la incontra ma non viene mai nominata e soprattutto qui non è descritta è molto diverso il sonetto rispetto al tanto gentile e tanto onesta pare e l'amore diventa un cacciatore quindi un uomo una persona pronta ad attaccare sempre in agguato e che soprattutto lo tormenta da mattina a sera incessantemente senza requie e senza posa amore qui subisce una trasformazione in realtà deriva dal mondo greco dove avevamo Cupido uno degli dei più antichi di tutti addirittura nella teogonia di Esiodo egli è rappresentato come uno degli dei più antichi e soprattutto una delle potenze ingenerate cioè che non sono neanche state create come il caos come la terra e poi invece altri miti successivi lo descrivono come il figlio di Afrodite il padre è incerto perché sono state date attribuzioni diverse ma è interessante perché era talmente crudele e spietato di natura che Zeus ne ordinò l'uccisione la madre Afrodite per salvarlo lo nascose in un bosco lo abbandonò lì Cupido venne poi allevato dalle bestie selvatiche dalle bestie feroci da solo si costruì arco e frecce e poi divenne spietato perché si divertiva a colpire naturalmente le persone a farle innamorare quindi a tormentarle instillando in loro quel sentimento amoroso che poi diventa come abbiamo già visto anche nel De Amore in moderata cogitazio quindi quel pensiero ossessivo quel chiodo fisso che mai ci abbandona e che ci costringe quindi a pensare sempre alla donna amata e che causa un'eterna e incessante sofferenza e in una delle prossime lezioni poi analizzeremo anche la canzone di Cino da Pistoia quindi un altro stilnovista che si intitola La dolce vista e il bel guardo suave perché il titolo richiama proprio il sonetto di Guido Guinizelli vedremo che alcune cose sono simili altre diverse ma ci torneremo appunto più avanti io vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto